Stai andando su YouTube, Carmine, di qualcosa, ma lasci stare. Mi chiamo Gianni De Cinello e vengo qua in palestra per essere un ragazzo sano. Sì, vabbè, ma qualcosa di vero, dai, sembra un'intervista di quelle del telegiornale. Perché vieni qua? Per allenarmi, perché voglio... Vai vedere, vai vedere. Bellissimo, è bellissimo. Vai Alessandro, sei su YouTube. Oh mio Dio, salve. Ciao Carmine. Che ti devo dire? Quello che vuoi. Salve, mi chiamo Orlando Alessandro, ho 11 anni. Faccio la seconda media, sono venuto in palestra perché un giorno dei bulli mi ha fatto male. Interessante. Gabriele, dici qualcosa, andiamo su YouTube. Prima di piano, sono male. Come vuoi? Mi sta registrando allora. Dai, dai, dici qualcosa. Mi chiamo Gabriele... Gabriele è l'ingegnere della sporforma, quello che sta rilevando tutte le fessure. Eccolo qua. Nicola, che ci vai qua sotto? Vai su YouTube stasera. No, ci voglio andare su YouTube. Come no? Vieni qua. Non vuole uscire dall'uscita principale, sta scappando da un'altra uscita. Non è regolare uscire di qua. Un altro cantino. Nicola, c'è un odore di bruciato, stiamo cercando di... Ah, ecco, Nicola è l'elettricista della sporforma. Nicola, fai l'intervista. No, non lo voglio fare. L'elettricista della sporforma. Vieni qua. Questo è certificato, sto ragazzo. Andiamo di qua. Poi. Poi. Ah, qua c'è un sacco di gente. Chi è questo? Oh, chi sei tu? Guardami, chi sei? Velenarmi. Velenarmi? Scusami, scusa. Tu chi sei? Angelo. Angelo, cosa fai tu? Qui. Nella vita, non lo so, dici qualcosa di te. Qui mi sto massacrando. Perché vieni qua? Per sentire i bevoli. Ok. Fermi tutti. Questa... Chi sei tu? Nicola. Nicola. Cosa fai? Io? Non lo so, dici qualcosa di te. Devo starvi a fare... Sembra di... Questo è Corino. Manoel. Di autoperfezione. Manoel è l'unico che hanno bocciato quest'anno della sporforma. Il fallimento. Venga qua, dai. Il fallimento, non è dei ragazzi, è dei professori. Ah, sì? Sì, postate che devo postare. Visto che tu parli nell'intervista, dici qualche cosa di questo dissesto, questa umidità. Guarda un po' qua. Questa roba che noi subiamo. Questa roba che noi subiamo. Questa roba. Questa roba. Perché Davide Tiziocaglioso è così importante? Davide, noi alla Sforforma siamo un insieme di capacità e risorse umane incredibili e indescrivibili. Abbiamo il giornalista, abbiamo l'ingegnere, abbiamo lo studente, abbiamo il capotreno e abbiamo il pezzo da 90, il criminologo. Ora, chiunque abbia dei problemi esistenziali ha a che fare con i delinquenti. Questo ragazzo qui è il criminologo della Sforforma. Penso che abbiamo fatto tutti. Buona serata dalla palestra di box della Sforforma.